Siamo con Paola Gula, giornalista enogastronomica cunese, si può dire. Lavorato anche in Rai, ha fatto un sacco di cose, assessore, anche assessore. La prima volta, siamo qui a Cascina Bruni, a Serra Lunga d'Alba, la prima volta nel cuore del Barolo, no? No, 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 io anzi sono proprio una sostenitrice, una fan del Barolo e ho praticamente l'appassionario del Barolo. Adoro il Barolo e berrei solo Barolo. Reduce da una verticale con sei, sette storiche annate di Barolo, qualche impressione? Beh, l'impressione è che il Barolo, come tutte le cose che mi piacciono, le persone che mi piacciono nella vita, ti lascia col fiato sospeso e ti sorprende. E quando qualcosa ti sorprende hai sempre voglia di conoscerlo di più, forse è per questo che mi piace il Barolo, così tanto. Abbiamo assaggiato un 97 che era la perfezione e tu dici il Barolo è questo, più di così non può dare. E poi vai a assaggiare un 82 e dici no, questo ti può dare ancora di più perché è giovane, è quello che quando noi assaggiamo un vino, diciamo l'infanticidio, è troppo giovane per berlo, 82 ragazzi non è così giovane, 82 ha 33 anni, 33 anni di trabotti, bottiglie eccetera, 33 anni sono tanti per un vino. Eppure io vorrei trovarmi qui fra 10 anni a riassaggiarlo e devo dire la prima volta che ho fatto una verticale seria l'ho fatta su dei Baroli, il più vecchio era dell'82, aveva, allora aveva 20 anni, quindi lasciamo perdere. E già allora l'82 mi aveva lasciato completamente basita, adesso ancora ci troveremo di qui, qui tra 15 anni a assaggiare ancora un 82 e io continuerò a dire che è un vino giovane. Paola Gula è però anche un'intenditrice di formaggi, un formaggio che sta bene con il Barolo. Tutto quello che è buono sta bene con quello che è buono, intanto, a livello generale come degustazione. Secondo me c'è Barolo e Barolo. Oggi abbiamo assaggiato in realtà sei, ma poi erano sette vini perché si è anche intrufolato un 96. Io ho un figlio del 96, uno del 97, quindi li ho accolti a braccia aperte come giusto che sia. Direi ogni vino avrebbe avuto bisogno di un formaggio diverso, ma sicuramente c'è bisogno di formaggi con una materia grassa interessante perché hanno ancora un'acidità interessante con delle cose da dire, sicuramente anche dei formaggi di sostanza perché devono saper contrastare questa cosa, sicuramente i formaggi buoni che non abbiano nemmeno un cenno di amaro perché qui i tannini sono imperanti e dove ci sono i tannini se c'è un formaggio un pochino amaro questo amaro va a esplodere e poi sai che cosa? In realtà qualunque cosa tu faccia di degustazione bisogna provarlo per dire com'è perché la degustazione è tipo l'orecchio assoluto, è una roba difficile da avere, bisogna provare per vedere com'è quindi secondo me dovremmo fare un incontro del terzo tipo. L'ultima domanda, al netto di Camillo Benso, Conte di Cavù, c'è un personaggio che si collega col Barolo? C'è un personaggio, a parte me che berrei solo Barolo, sì tanti, tanti perché intanto meno male Camillo Benso e non la smettiamo di dire che è stata una donna a inventarlo e invece è un uomo perché è tanto bello dire che la Colbert ha inventato il Barolo, non è vero. Secondo me ci sono, il bello del Barolo forse è proprio perché a parte al netto di Camillo Benso non ci sono ma ci sono tanti personaggi, tante persone che hanno lavorato dentro le vigne e hanno fatto crescere un prodotto che è solo nostro che anche se qualcuno ha cercato di incontaminare, di dare delle cose diverse, in realtà questo è un prodotto nostro di chi la terra la tocca con i piedi e con le mani. Grazie. Prego. Grazie a voi. Grazie a voi.